Madre aggredita e minacciata dal figlio. Paura nella serata ieri a Torre del Greco. Urla di terrore hanno allertato i residenti di via Ignazio Sorrentino. Immediatamente sono stati avvisati gli agenti del commissariato di Torre del Greco. Intervenuti sul posto sono stati presto raggiunti da una donna profondamente scossa. La signora ha chiesto aiuto raccontando di essere vittima di comportamenti violenti da parte del figlio, che più volte l'avrebbe violentamente aggredita per futili motivi. Gli agenti hanno trovato e bloccato l'uomo, un 38enne o plontino, ancora nell'appartamento della madre, arrestandolo sul posto per maltrattamenti in famiglia.